Erano saliti al Pascolo per riportare la mandria che aveva trascorso l'estate all'aria aperta giù in paese e nelle stalle. Ma appena radunato il bestiame sono stati assaliti da un gigantesco toro imbizzarrito. Per Sergio Bisi, 64 anni, e Filippo Preli, 60 anni, due allevatori in pensione, non c'è stato niente da fare. Hanno cercato il riparo nel vicino bosco, ma l'animale li ha inseguiti, uccidendoli entrambi. La tragedia avvenuta nell'Apenino Piacentino, a Rompeggio, nel comune di Ferriere, poteva avere un bilancio ancora più pesante. Il figlio di una delle due vittime, quando è arrivato al Pascolo, è stato anche egli travolto dal toro, ma se l'è cavata. Poco dopo è arrivato il proprietario dell'animale, che è riuscito a condurlo per un tratto, ma è stato incornato ed ora è ricoverato in ospedale. Alcuni parenti che hanno assistito alla scena hanno tentato di travolgere senza successo il toro con un grosso fuoristrada. La voce si è sparsa nella vallata, si temeva che il toro potesse raggiungere il paese dove la gente nel frattempo si era rinchiusa in casa. Una sequenza ad alta tensione che è terminata con l'arrivo di due cacciatori. E questa nel terreno è la sagoma dell'animale nel punto in cui il toro è stato abbattuto a colpi di fucile? Nel paese c'è incredulità per quello che nessuno pensava potesse accadere e ci si chiede ora se questa tragedia poteva essere evitata. Il toro di razza non si può lasciare sciolto, va tenuto nella stalla perché li ha sempre tenuti nella stalla.